ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco sameseb crema a cosa serve sameseb crema un parafarmaco appartenente alla categoria degli inestetismi cutanei viso acne cooperose brufoli eccetera è commercializzato in italia dall'azienda savoma medicinali spa informazioni commerciali titolare savoma medicinali spa concessionario savoma medicinali spa categoria di appartenenza inestetismi cutanei viso acne cooperose brufoli eccetera confezioni sameseb crema crema 30g indicazioni trattamento della cute seborroica e barra o contendenza acneica modalità d'uso applicare una o due volte al giorno sulle parti del viso fronte naso eccetera caratterizzate dalla presenza di secrezione sebacea di comedoni descrizione e caratteristiche crema percute sensibile con moderata seborrea anche accompagnata da imperfezioni avvertenze da non usare nei bambini al di sotto dei tre anni contiene cloruro di stronzio se ne sconsiglia l'impiego nei bambini evitare il contatto con gli occhi nel caso lavare abbondantemente con acqua componenti e ingredienti acqua niecinamide di caprilicarbonate stearet 2 cetil alcol glicerina salicilicacid coco caprilate stearet 21 butil avvocadate aluminium star coctenil succinate strontium cloride rosmarinus officinalis extract dimeticone sodium idroxide sodium deidrocetate di sodium edta fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato